Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui finalmente ritornato con la top 5 delle vostre configurazioni. Ebbene ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo episodio in cui vedremo, secondo me, una delle poche volte in cui tutte e 5 le configurazioni sono top. Cioè nel senso, tutte e 5 mi piacciono veramente, tranne qualcuno appunto che ovviamente non ha cable manager o altre cose, quindi andremo a vedere. Ok, iniziamo da Simone, dalla quinta posizione, che ci dice, ciao mi chiamo Simone e vengo da Varese. La mia posizione viene usata per lo streaming e gaming. Questa è la mia posizione da gaming, spero che ti piaccia. Ma room setup, ok, devo dire che è un pochettino spoglia. Cioè se c'era qualche piccolo mobiletto o qualche cosa mi sarebbe piaciuta di più. Non sono un fan dei led che stanno appunto attorno alla stanza, non mi piacciono. Mi piacciono più magari qualche faretto o qualcosa che crea illuminazione. Così in realtà non mi fa impazzire. Cable management è decisamente inesistente, ma iniziamo dalla scrivania. La scrivania non è male, è un ottimo punto di partenza, puoi farci veramente tanto. Vediamo la sedia che è una IGXT. Cable management... Non ci siamo. Nella parte inferiore potete vedere, qua è veramente ben sistemato, ok? Però nella parte superiore si vedono un bel po' di cavi, quel tappetino RGB che a me sinceramente i tappetini RGB non è che mi facciano impazzire. È bello, ci può stare, magari qualcuno un po' più particolare. Però questo qua sinceramente non quel cavo, non lo so, sinceramente non lo so. Da quando utilizzo periferiche wireless, completamente wireless, come vedete qui non ce n'è. Anche per il gaming utilizzo periferiche wireless, sono spettacolari. Quindi comprate periferiche wireless, ve ne consiglio qualcuna in descrizione. Ok, poi invece per quanto riguarda il PC, niente male. Ha questo disipatore con la temperatura, che se come nel suo caso avete il PC sulla scrivania, riuscirete a vedere la temperatura della vostra CPU semplicemente guardando il PC ed è spettacolo. La scheda video è spettacolo anche questa, è una 3,90. Abbiamo una scheda madre B550, disipatore a 240 mm, ROG, RAM Corsair Vengeance RGB Pro 32GB, Ryzen 7 5.8X, alimentatore 850W Gold, ok ci può stare. Ok, andiamo alle periferiche. Come periferiche hanno la tastiera Logitech G Pro TKL, buona, e il mouse Logitech G Pro Super Lite. Le cuffie sono Logitech G 935 wireless. Comunque troverete tutte queste cose qui direttamente in descrizione. Le andrò ad elencare per posizione della top 5 e potete consultarle voi stessi. Poi vediamo i monitor le G27GP 850P 2K 144Hz. Il secondo lo uso per vedere la chat di Twitch, è un MSI Optics 2K 175Hz. Ci può stare, non male. A me i pannelli dietro, tutto pieno a pannelli, non mi piacciono. Preferisco magari dei singoli pannelli, perché così vai a ovattare completamente tutto, anche se c'è qualche miglioria, però non tantissimo. Se invece di utilizzare tutti i pannelli dietro, li utilizzavi sparsi nella stanza, avevi più trattamento acustico rispetto a fare una cosa del genere. Complimenti, se farei miglioramenti, postali. Ok, adesso andiamo da Andri che mi ha messo uno speedtest con 500 megabyte in download e 64 in upload. Spettacolo, ti invidio. Questa è un'altra postazione che Apple Management... Sto Apple Management, però vabbè. Ci dice, ciao carichemente, mi chiamo Andrea, ho 20 anni e sono di Catania. Ho da sempre avuto la passione di PC che mi ha trasmesso principalmente mia nonna quando avevo circa 5 anni. Lo so, è strano, ma è stata lei ad insegnarmi e spiegarmi come funziona un PC. Spettacolo, ma che nonna c'hai? Spettacolo. Ma da quando ho trovato il tuo canale e contemporaneamente quello di Blink nel 2015, mi si è aperto un nuovo mondo. Adesso posso dire finalmente di avere un buon setup e dopo circa 7 anni ti posso mandare la mia postazione decente. e non come quella che ti avevo mandato 7 anni fa, solamente il PC portatile e delle periferie. Ah, quindi già l'avevi mandata. Spettacolo. Questo setup l'ho realizzato da poco che ho cambiato casa, ma comunque la maggior parte delle cose la proseguo da qualche anno e si trova nella mia camera da retto. Il setup è diviso in due parti. La scrivania principale dove gioco, utilizzo internet, ascolto musica e raramente faccio editing video. La scrivania secondaria dove ogni tanto costruisco, modifico qualche oggetto elettronico e uso il PC portatile. E come tra alcuni cavi, come quello del mouse e quelli dei satelliti, non sono fissati perché capita che li stacco. Ad esempio il mouse quando mi porta il PC portatile, ma anche perché quando devo pulire ho bisogno di spostare certi oggetti e di conseguenza ho bisogno di un cavo che sia libero. A maggior ragione ti consiglio delle periferiche wireless, così stacchi solamente il dong da USB, il ricevitore e te lo porto. Niente, iniziamo dalla scrivania, ha un'IKEA Malm 150x65 principale, una Malm 140x65 la più vecchia, abbastanza clean. L'unica cosa che non mi piace appunto il cable management è un pochettino il PC, non lo so, il dissipatore piccolo, non lo so. Esteticamente si poteva sistemare il sub sulla scrivania, vabbè ci potrebbe anche stare. Le casse, le altre cose, comunque niente male. Anche la tastiera mi è piaciuta veramente tanto, complimenti. Sedia Corsair T3 Rush, PC, abbiamo ROG B450, Ryzen 5 3006, una 360 Ti, comunque niente male, ottimo per giocare. Vediamo i monitor principale, Acer 27 poli 165Hz 2K curvo e secondario, un Odyssey G4 240Hz 1080p, lo uso come monitor secondario perché è full HD e preferisco molto il quad HD, sì ci può stare. Logic G502, versione bianca, tastiera Fnatic Strik LP bianca, cuffie più microfono Fnatic React. Utilizzo il mic integrato alle cuffie perché devo dire che si sente davvero bene, l'eco è completamente assente. Ok. Ho un Z906 5.1, visto da un tuo video devo dire che sono veramente ottime, fantastico veramente. Io lo utilizzo adesso come impianto principale nel salotto e spettacolo, veramente spettacolo. Sono cassette piccolissime ma che si sentono veramente molto molto bene, il sub veramente spinge. Ah, interessante, ci dice il punto dell'internet. Router esterno con SIM 5G, circa 500 con 550 MB per secondo. Unica pecca è il ping un po' altino, ma rimane comunque ottimo per scaricare i giochi e navigare su internet. Spettacolo. Internet secondario, classica 30 MB della Wind, con un ping ovviamente più ridotto e stabile. La SIM 5G ovviamente, quello magari per giocare. Altri oggetti nella scheda secondaria partendo da sinistra. Speaker portatile, tazzina con dentro il chiavetto USB, PC portatile, eccetera, eccetera. Mi piace, le scheda mi piacciono tutte e due in realtà. Anche il parquet, anche il muro blu mi piace tantissimo. Sì, c'è qualcosa però nella posizione che non mi fa impazzire tantissimo. Due scheda mi piacciono singolarmente ma messe insieme così non tanto, però hai fatto un ottimo setup. Ecco, devo farti veramente i complimenti. Spero che lo migliorerai ancora. Anche se già sei a buon punto, sistema il cable management, ecco. Se hai appunto problemi potresti utilizzare delle periferiche wireless o comunque già come periferiche sei a posto. Niente, se farai dei piccoli miglioramenti mandali lo stesso nelle mail e sarò contento di andarli a vedere. Andiamo nella terza posizione. Ok, ciao, praticamente guardo questa serie da diversi anni e finalmente sono riuscito a mandarti il mio setup dopo duro lavoro e sacrifici. Ho 18 anni, studio e lavoro per creare questo sogno, sono molto appassionato di pc e di audio e faccio il bartender. Ma bando alle ciance. Scrivania, piano Saiyan di Ikea da 180 cm con due supporti Alex. Possiamo vederla qui, semplicissima. Ha rialzato la scrivania superiore, la parte del piano da lavoro, ecco. Veramente ottimo, come ho fatto io. È spettacolo, hai molto più spazio sotto. È un'altra storia. Monitor, primario LG 27 2K 180 Hz, secondario LG 27 60 SP, sarà un 60 Hz, supporto a nuovo doppio a gas. Ok, mai sentito a gas. Cable Management, non lo so. Lì sulla sinistra, sulla destra si vede qualcosina, sembra tutto un po' poco 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 disordinato, però comunque hai fatto del tuo meglio, non è male. PC, RMX 850, B550, 5800X OC, RTX 3070 Ti, 8GB, ventole, eccetera. Allora, best PC. Esteticamente è uno dei migliori. Peccato per dei cavi slivati, magari se metti dei cavi slivati diventa veramente il top. Te ne metterò qualcuno in descrizione. E ci sono quei cavi slivati che hanno, che diciamo non sono dei cavi slivati, sono delle cose che si mettono sopra i cavi, che permettono un'illuminazione particolare dei cavi. Quella è una cosa che vorrei mettere in uno dei miei PC, che vorrei aggiungere, ma è puramente solo estetic. Veramente un'ottima postazione, la scheda audio con tutto il resto, il microfono, vediamo il microfono, cosa ha utilizzato. Ok, audio, una DAC Topping E3, amp cuffie Topping L30, scheda audio Focusrite 4D4, compressore UV1 Ultra Voice della Behringer, DT 990 Pro per quanto riguarda le cuffie, microfono AT2035 e l'asta ROD PSA1. Periferiche mouse Ballistics X Hyperspeed, tastiera GK68XS, cavo Coiled by Core Cable, tappetino SPCG Gear in cordura. Seconda postazione, a questo ragazzo consiglio di pulire ogni tanto la camera del suo telefono, perché le foto sono venute un po' male, ecco. Però comunque, ha veramente un ottimo setup, non potevo non aggiungerlo. Ciao a tutti, oggi vi presento la mia postazione costruita esclusivamente componentistica usata, vivo a Monaco di Baviera. Ho sempre avuto la passione per i setup, quindi tassello dopo tassello ho costruito il mio. Ovviamente non è mai finito, ma credo di esserne abbastanza fiero. La scrivania l'ho presa gratis, è circa 180x90 di legno con le gambe in metallo. Il computer l'ho appena assemblato con i pezzi presi usati e finora non mi ha dato problemi, speriamo non me ne dia mai. I9 9900KF, 150€. Ah, ci ha messo anche i prezzi, adesso vediamo, vediamo, sono curioso. RTX 3070 MSI, 300€, ROG Maximus XO Core, 100€, SSD M.2 Samsung 500GB, 15€, ok? SSD M.2 Sabrent 1TB, 30€, niente hard disk, Case Asus TUF GT 501, 40€, 16GB di RAM Corsair 3200MHz, 30€, Vento le Corsair RGB, 15€, Corsair RX 750M, 60€. Comunque, niente male, 550, un 6 barra 7, eh infatti, più o meno il computer costato sui 7,50, so che è poco, ma all'altro è tutta roba usata, aspettando mesi per trovare offerte interessanti. Comunque, secondo me hai fatto bene, ecco, hai fatto bene a fare tutto completamente usato. Camel Management ho fatto il mio meglio, ma avendo le prese nel mezzo della scrivania non posso nascondere la canalina, a parte quella non si vede nessun cavo sulla scrivania, anche perché ho preso le periferiche tutte wireless, proprio per evitare il problema alla base. Grande! Infatti, ti aggiudichi il Basketball Management, soprattutto per queste canaline che hai messo di sotto, sono veramente fantastiche. Sulla sinistra è un cosino veramente particolare, probabilmente lo dirai, ma spettacolo, avrà un USB, altre cose, spettacolo, quelle saranno cose che ci sono lì a Monaco, particolari. Sedia la devo cambiare, è una normalissima DX Racer, ma è tutta sbucciata per colpa dei gatti, maledetti gatti. No, comunque non l'ha fatta vedere, probabilmente era completamente distrutta. Abbiamo tre monitor, PC niente male, dissipatore non mi fa impazzire particolarmente, ti consiglierei di mettere un bel dissipatore a liquido, un only one, ci può stare. So che dovrei comprare delle casse, magari un paio di HS8, vedremo. Non lo so se ti entrano nel setup o comunque prenderei qualcosa di più piccolo, HS8 già sono cose più particolari, hanno dei bei bassi, bei bassi, ok, però non so, non te li consiglio, ecco. Spero di finire un top setup anche per dimostrare che non serve spendere milioni per avere un setup decente. E l'hai dimostrato comunque. Pulisci la camera dell'iPhone del tuo cellulare, però ci può stare, no, comunque. Complimenti veramente, scherzo a parte. E se farai dei miglioramenti appunto aggiungili. Allora andiamo da Tommaso, best setup. Allora eccolo qui ragazzi, ve lo faccio vedere. Questa è una room setup, però che mi è piaciuta particolarmente per le foto fatte bene. No, no, scherzo, non solo per quelle, però perché appunto è fatto veramente pulitissimo. Cioè è pulito, cavolo, bello, 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 come piace a me. Ciao, mi chiamo Tommaso, ho 17 anni e questa è la mia postazione che uso per giocare, editare e studiare. Ho una passione per le postazioni e i PC che mi ha spinto a spendere tutti i soldi. No dai, così mi sento in colpa, vero? La camera e il setup sono ancora incompleti per ora e devo ancora montare le mensole e i pensili della camera. La scrivania è un'IKEA con piano da cucina completamente in legno perché il classico della scrivania si piegava. Dix Razer Prince P132N ha una console Xbox One. PC è stato assemblato da me nell'estate del 2021 ed è stato fino a gennaio senza scheda video. Ora finalmente sono riuscito a prenderlo dopo tanta ricerca. Queste sono le componenti. Z 490, i7 10700. Un ottimo, cioè è un bel PC, veramente. Scheda video 4080 OC 16GB. Spettacolo, devo dire che anche esteticamente è un Lee & Lee esteticamente, veramente merita. Il migliore della puntata, anche del best PC che avevo messo, veramente top. E non mi piace tanto il dissipatore Only One, però comunque ci sta. Periferiche, abbiamo periferiche Logitech classiche anche per quanto riguarda le cuffie. Apple Management guardate che è fantastico. Abbiamo il cavo delle cuffie sulla destra, sulla sinistra un UPS non collegato, però del resto guardate la canalina là sopra, guardate che è pulita. Grande, veramente, sommate, hai fatto un lavoro spettacolare. Anche tutti i mobili, Ikea, bello. Il letto dietro, peccato non l'hai fatto vedere, però ci sta. 4K 60Hz per quanto riguarda il monitor. Tastiera G213, Logitech G502, mouse, webcam C925, cuffie G432. Ci può stare. Nanoleaf Shapes, Guvi striscia LED, piantine di Ikea, immancabili. Tappetino, autosrog, router, team box con cavi, ethernet, sull'Xbox e PC. Sotto alla scheda di un gruppo di continuità che non ho ancora montato. Ti consiglio tanto di montarlo. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questa top 5 vi sia piaciuta. Ci vediamo in un prossimo video in cui andremo a creare un nuovo PC. Finalmente. Da standoff andremo a fare da zero un'altra modding. Ragazzi, non vedo l'ora di moddare. Andare subito in laboratorio a moddare il tutto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao.